Tornano le iniziative letterarie della sezione Unucci di Taranto, l'Unione Nazionale Ufficiale in Congedo d'Italia. Protagonista della serata è stato il libro Il Sentiero del Lupo, scritto da Roberto Patruno per i tipi di Francesco Tozzuolo, editore. La serata ha registrato una grande partecipazione di pubblico che ha affollato la sala del Circolo Ufficiale della Marina Militare. Dopo Lino Di Mameli, l'incontro è stato introdotto dal presidente dell'Unucci Ionica, il comandante Gianni Passafiume, e moderato dalla giornalista Antonello Giusti. Le letture sono state curate da Angelo Bommino. Una riflessione di quelle che sono le cose più importanti della nostra esistenza e che poi sono le cose più semplici. E quindi mi ha portato a scrivere dell'ambiente, mi ha portato a scrivere di questo rapporto fra l'ambiente che è rappresentato dal lupo e il personaggio e il protagonista del libro, Francesco. Nel ciclo delle attività culturali che noi cerchiamo di rimettere in piedi un'altra volta dopo due anni e mezzo di crisi profonda e di sospensione di tutte le nostre attività. Il libro ha una valenza importante perché tratta di due lupi, un lupo di mare e un lupo vero, un lupo. La storia è molto ricca di suspense, di cose belle, cose che noi abbiamo dimenticato.